Per aumentare la tua visibilità in maniera efficace sui canali digitali l'elemento più importante secondo me proprio nettamente al di sopra di tutti gli altri è quello di distinguerti in maniera chiara da quello che fanno i tuoi concorrenti il nostro vizio qual è noi facciamo di tutto non c'è problema dici quello che vogliamo noi te lo facciamo facciamo i siti confezioniamo i prodotti facciamo le campagne a seconda del settore dove operi spesso siamo abituati a vendere noi stessi o la nostra azienda come un factotum ora io non ti dico di rinunciare ad una branca ad una fetta dei tuoi clienti ti dico crea una testa di ponte una punta di diamante una vetrina dove ciò che rappresenti ciò che offre ai clienti ha una particolarità che ti distingo immediatamente dagli altri questo non ti obbliga a rinunciare a poter dire sì a richieste diverse ma se ti caratterizzi nel fare qualcosa di particolare soprattutto nello spiegare a quale tribù a quale audience a quale tipo di clienti tu ti rivolgi hai un livello di aderenza con i tuoi clienti maggiore perché perché a me non interessa avere diecimila fan non interessa avere centomila lettori ne preferisco mille o cento che però sono interessati come chi è affamato assetato di quello che io ho da offrire è per questo che io ti suggerisco di cominciare a mettere in discussione nella tua testa quanto sia rilevante effettivamente continuare a proporsi a 360 gradi invece di stringere la tua proposta di vendita di marketing su qualcosa di preciso che ti caratterizzi mantenendo la possibilità di continuare a fare tutto il resto